Bene, ricordi quando ti dicevo in mezzo della compilation di Bunker Core, è questa qua. Ciao Alberto, oggi per te è un giorno speciale, non è vero? Beh, che aspettare allora? Ti auguro un felice compleanno, e mi raccomando, non esagerare con le bevande alcoliche, quest'oggi. Incendi quello che dico! I see you baby!